Grazie. Allora, Stefano Visonà, magistrato, capo ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, tavolo sul lavoro. Lavoro, allora, come si fa a passare dai lavoretti ai lavori veri? Che cosa avete? Questo, no, non abbiamo inventato nulla di particolare. Il tema, come ha già anticipato lei, è assolutamente complesso. Siamo implicitamente anticipato lei. Siamo tutti convinti che il lavoro in carcere sia fondamentale, sia fondamentale alla buona riuscita del processo di risocializzazione. Però credo che, a proposito di impopolarità dei discorsi sul carcere, il discorso sul lavoro in carcere si colloca in buona posizione. Tanto più oggi in cui il lavoro è una risorsa scarsa, anche se fortunatamente i dati segnano una ripresa, e le persone, o almeno come qualcuno ha detto ieri, quel che delle persone restituiscono i media non sembrano particolarmente disponibili a idee di investimento, di risorse a favore del lavoro in carcere. Però quando si parla di lavoro in carcere c'è poco da fare, le risorse servono, qualunque sia l'approccio e l'approdo a cui si intende perseguire. Quindi il discorso sul lavoro in carcere, come più di altri, rischia veramente di diventare solo un esercizio di buone intenzioni. Quindi è condivisibile assolutamente, ringrazio molto gli stati generali, li ringrazio da cittadino per aver deciso di dare corso a questa riflessione collettiva su questo tema. Per quanto riguarda in particolare il lavoro in carcere, deve essere una discussione che con argomenti razionali, che alla fine i cittadini, che probabilmente sono meno peggio di quelli che ci figuriamo possano capire, con argomenti razionali bisogna spiegare che promuovere e sviluppare il lavoro in carcere non è solo l'adempimento di un dovere oramai imposto dalle fonti nazionali e internazionali, una connotazione di un trattamento improntato a criteri di umanità. Ma è anche un vettore di utilità specifica, come diceva e anticipava il ministro Poletti in precedenza, un vettore di utilità specifica per tutti i consociati. Innanzitutto, è stato ricordato, i dati parlano chiari, il lavoro in carcere, un lavoro strutturato, ovviamente abbassa di molto il tasso di recidiva e abbassare il tasso di recidiva significa migliorare la sicurezza e quindi poter liberare risorse dalla sicurezza. E parimenti un lavoro in carcere fornisce e provvede al detenuto una retribuzione con la quale gli è consentito di concorrere a fini di responsabilizzazione perlomeno al suo mantenimento in carcere, al mantenimento dei suoi congiunti all'esterno del carcere, che è un veicolo fondamentale per mantenere quel legame affettivo che poi è molto utile soprattutto nella fase del reinserimento e gli consente pure eventualmente di provvedere agli obblighi che sono stati imposti in conseguenza del reato. Ora, per quanto riguarda il lavoro in carcere, la difficoltà del problema dipende dal fatto che non ci sono molti interventi normativi da fare. Scrivere le norme non è complicato, a me è complicato scriverle bene e non sempre ci si riesce, però immaginare le norme non è complicato. Ma il problema del lavoro in carcere non è un problema ad avviso mio e credo anche dei componenti, anzi sono sicuro, lo dico solo in termini retorici, dei componenti del tavolo 8 che ho avuto l'onore di coordinare. Non è un problema di norme perché le norme ci sono nel nostro ordinamento. Ci sono norme che sanciscono principi alti come quello per cui il lavoro deve essere volontario, così come volontario in effetti nella società libera, non può essere imposto come una punizione o come un'attività utile per definizione all'emenda del reo. Tanto più che anche ai sensi della nostra Costituzione, l'articolo 4, il cittadino può concorrere al progresso sociale e materiale della società anche con attività e funzioni che non sono lavoro. Il lavoro dice ancora il nostro ordinamento penitenziario che non dimentichiamo, ci è stato emanato nel 1975 quando la Costituzione era entrata anche nel diritto del lavoro e quindi che echeggia molti principi che si trovano anche nello statuto dei lavoratori. Il lavoro, diciamo, nell'ordinamento penitenziario è un'opportunità che deve essere offerta appunto come occasione di risocializzazione. Ora qui c'è un po' un problema, le norme parlano appunto quasi di un obbligo di dare lavoro alle persone detenute, anche se poi correggio un po' il tiro parlando di in quanto possibile. Ora probabilmente non c'è un vero e proprio obbligo, almeno un obbligo che se violato possa dare luogo a conseguenze risarcitorie. Però è chiaro che questa norma afferma un impegno molto forte da parte dello Stato a darsi da fare per trovare occasioni di lavoro. Altro principio fondamentale già affermato nel nostro ordinamento penitenziario è che il lavoro deve svolgersi con organizzazioni e metodi tali da riflettere quelli del lavoro libero. Il lavoro, questo è abbastanza pacifico è tanto più risocializzante quanto più assomiglia al lavoro che si svolge all'esterno. Ed è necessario dunque, soprattutto nei servizi domestici o di istituto, il lavoro venga appunto organizzato con metodi quasi aziendali. Ovviamente la somiglianza postula anche che tanto il vattore di lavoro quanto i lavoratori che partecipano al rapporto si atteggino come nello Stato di libertà, vale a dire innanzitutto mantenendo fede agli impegni che hanno preso con il rapporto, il che significa per il detenuto in particolare organizzare il proprio tempo all'interno del carcere e quindi i colloqui, le visite e tutto ciò che accade anche in ragione dell'impegno lavorativo, secondo il fondamentale principio di responsabilità. Anche quanto alla retribuzione, il nostro ordinamento direi che non presenta la necessità di grossi interventi. Come sappiamo la retribuzione alla dipendenza dei terzi è uguale alla retribuzione che viene erogata per il lavoro libero. Andiamo verso la fine, benissimo. Invece la retribuzione per coloro che lavorano alle dipendenze della pubblica amministrazione penitenziaria è commisurata quella di contratti collettivi seppur ridotta a due terzi e questa cosa sembra sostanzialmente equilibrata anche se si può discutere sulle percentuali ma insomma la linea di fondo va bene ed ha avuta anche l'avallo della Corte Costituzionale. Venendo diciamo al punto forse centrale, il nostro tavolo 30 secondi. Il nostro tavolo ha chiuso i propri lavori piuttosto che con delle soluzioni con una fondamentale domanda fondamentale secondo noi. Il lavoro per quanto lo disciplini bene bisogna trovarlo e trovare lavoro come sa chi l'ha cercato è un lavoro. Quindi il problema per noi fondamentale che a noi sembra fondamentale è come organizzare questa ricerca di lavoro, come portare il lavoro in carcere. Termino in 20 secondi, forse è un milione di 50. A questo punto l'altro interrogativo che ci siamo posti è ma non sarebbe forse il caso di pensare, non per dispiacere qualcuno, per criticare l'operato di qualcuno, non sarebbe il caso di pensare a un ente, un organismo che si occupi specificamente del problema del lavoro in carcere e di tutti gli aspetti connessi al lavoro in carcere. Certo in quella volta si parla di istituire un ente organismo, molti storcano la bocca. Però non dimentichiamoci che il problema del lavoro in carcere va affrontato con specifiche professionalità, quindi persone che capiscono di profilazione, persone che capiscono di marketing eccetera eccetera eccetera. Esperienza che peraltro in altri paesi è stata effettuata e per i dati almeno disponibili, fatta pure la tara per l'orgoglio nazionale, sembra ad oggi funzioni. Grazie.